Oggi è morta sole, una cagnetta dolce e tenera che non faceva male a nessuno, uccisa da un veleno buttato nel parco. Inizia così il messaggio appeso all'ingresso del Giardino dei Giusti a Nichelino, dove pochi giorni fa una padrona ha pianto la sua fedele amica. L'allarme per le esche avvelenate sparse nel parco di 15.000 m2 in via del Pascolo è uno dei tanti diffusi negli ultimi mesi. A Nichelino è stata trovata una polverina bianca su alcune foglie sistemate sotto i cespugli, vicino a Panchine e lungo il vialetto principale del parco. In azione sovente Mirtil con il suo conduttore, l'agente della polizia metropolitana Carlo Geimonat, continuano le segnalazioni ed è un pericolo su cui bisogna tenere sempre gli occhi aperti. Sì è un pericolo per tutti i cani, per tutti i nostri amici a quattro zampe, bisogna purtroppo fare sempre molta attenzione perché noi non possiamo essere dappertutto, facciamo prevenzione con queste ispezioni. Però la prima cosa è la buona norma di comportamento da parte di tutti i conduttori, quelli proprietari dei cani che magari non sono tutti così rispettosi e poi ne vanno di mezzo anche i cani dei padroni attenti e diligenti. Diamo un consiglio a chi purtroppo dovesse trovarsi in questa emergenza, che cosa deve fare, chi chiamare e come comportarsi? Chi trova dei bocconi avvelenati o delle esche, dei sospetti deve segnalarlo alle forze dell'ordine, possono essere i vigili o meglio il 112, comunque segnala a noi della città metropolitana in modo che si faccia rete tra tutti i soggetti sul territorio e si possa intervenire in tempo rapido e tempestivo per fare un'eventuale bonifica. Valentina Cera, consigliera metropolitana, ma consigliera comunale qua a Nichelino, è stato veramente in pressione questo episodio e quindi qui c'è il ruolo della città metropolitana a sostegno dei territori. Sì, un servizio importantissimo questo dei cani, della cagnolina Mirtil antiveleno. È stato segnalato anche a mezzo stampa un orribile episodio con la morte di una cagnolina a seguito di avvelenamento. Cagnolina che era stata in questo parco pubblico e quindi avere la possibilità di chiamare questo servizio importantissimo della città metropolitana per controllare i parchi pubblici e provare innanzitutto a prevenire, a fungere da deterrente per chiunque perpetui queste azioni che sono orribili, cioè quello di disseminare parchi pubblici con bocconi avvelenati per i nostri amici a quattro zampe. Grazie